Quando faccio un video le Talcompany su minecraft Eh già no, non l'ho fatta Ma è morto che p***o Mambo sono morto Baffalo ti ha dato una c***a Sì, sì, sono morto Ehhh Siccome qualche clip lo potrei estrarre Dalla vera Talcompany e caricarlo Però cosa A posto Ehm, allora io sto voce Oh, ecco, ho da capo fatto la stessa roba di prima Ah, Chris, devo garantire il mio inventario Per l'ennesima volta Ehm, Diamond, Pickaxe Dove hai messo la roba dell'Enda? Capocchio, esattamente A me sembra Serve roba che si bruci E non I nostri cari amici Che iniziano con E Elicotteri No, no, no Non proprio elicotteri Penicotteri Penicotteri Managgia e penicotteri Ma che Ma porca p***a Amore ho pulito dalla casa Eh, per questo la sto Eh, vabbè Ma lì prendo la casa giusta Oh Sì, vabbè Hai messo proprio il p***a rata Porca p***a È possibile organizzare qua Non puoi Non puoi C'è troppa roba diversa Ho capito Qua la puoi mettere Tutta la roba E' aggiustata Sì, fra Io ho aperto la prima cesta Ho premuto su Cioè, prendo Ho premuto insert Sopra tutte quante le ceste E quelli erano tutti gli oggetti Che mi sono rimasti addosso Che non si potevano Mi sta con altro Iac, mo la sposto Se scassa Gabri, la gentile cliente È pregata A non pregare in farmacia Faccio quel cazzo In farmacia Gabri Infused wool Venga Lancia la tua tenibile Gabri perché non compri Un computer nuovo Si viene a giocare A minecraft Gabri Comprate tu Le rogallari Tanto che ci vuole Beh, lo costa solo Uno stipendio Eh, forse lo Lo steam deck Costa molto di meno Da vero Quindi deck Ora lo trovi anche Intorno ai 300 Gabri, che sono i 300 euro? Cioè, costa quanto Una Nintendo Switch? Gabri Una Nintendo Switch? Non ti rendi conto Gabri, che aspetti? Guarda sta merda Forse no Aspetta Va così Pro c'è sto schifo Vado Oh nero Ho ammazzato Ah, c'è cosa Che mi dà la culata Oh, e ammazzo Porco Dio Che mi dà la culata Eh, sono finito sotto il mondo Addio Eh, sono morto Porco Dio Ok, lo sapevo Lo sapevo Lo sicuro di sta roba Guardami Mi hai visto? Vedi te stesso Wow Sto giocando a Spyro Va bene Mi vedi per caso Ah, sei appena caduto dal cielo Ma la mia tomba? Andrà qua Porco Dio Non c'è catastrofe Lo sapevo che c'era stiamo Almeno male Meno male E ora devo cadere però nell'acqua Do fare la E' una mossa Un po' Ok, ci siamo Ci siamo Ah, sei caduto Sì God damn God damn Yes Un nero Un nero Non ho detto Un uomo nero Di merda No, no Non ho detto Ma è stato Andrò corrente Sono fra come Come funziona Sta roba Mi spacco di faccia Un po' Di aiuto 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 Ah Eh Spacco terra Così Che bello Potete andare peggio Capri bello Spairo Spiderman Ok Poco Ma non così tanto poco E c'è il tuo caffai Che vuoti Se sei ancora Se non sei più Proprio A favore Ah Paolo Questo adattatore C'ha pure La presa LAN Sotto Che cosa? Che cosa? La presa HDMI Che fa? Che fa? Oh no Colpideci l'ho Ma chi? Ma chi? Ma chi sono Sti pezzi No Non a me Ah E dillo E tu non mi hai risposto Prima che ho visto Il nome di Di Sto all'ultimo capitolo Il mio preferito Ma se non l'hai fatto Come fai Sto il pezzi Ci siamo stupolato Un nero Un nero Parco L'ho chissata Guarda Ahia Negra cotta Ahiai Ahiai E il smu Albano 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 Oh Mara C'è l'asbor C'è il poliestere qua E non ha già il poliestere E uso cazzo il poliestere Capri che è il tuo personale preferito di Spyro Pen Porco Dio Non so è morto Capri quale è il tuo personale preferito di Spyro Non funziona il mix Si può tardare spyro tra prensi 3 in versione fisica della ps1 gabrile ps1 per caso e luna c'è il nero hai visto che non bastano però che cazzo ma che senso ne mancano un'altra volta però è fatta un'altra volta e non so che cazzo era sto scavando senza leggendo la cazzo pensi sì è uso cazzo poliestere di merda vengi a costa zappa del cazzo ma aspetta io c'ho hai detto perchè c'è il calcolo dell'irpef calcolo dell'irpef oddio oggi sono stato in chiamata con altri colleghi umani ma questo calcolo porco dio lo dicono tutti calcolo ma che è il meglio annaggia il calcolo dell'irpef ma dicono anche di fatto domani lo vedo di fatto sono fatto mamma mia e ancora ce n'è cambiato niente purtroppo solo la ps2 gabrile ah beh effettivamente poi avrei provato a mettere spyro ps1 nella ps2 gabrile di che succede vabbè poi un po' prende fuoco al ps2 e ancora il giustizio di ps2 gabrile ss e allora per favore per favore secondo me controllo per nintendo switch permette spiello ps2 un uomo nel microonde un po' un uomo le nuova occhie finale è la porta putt la gente va tenendo gioco fa ancora in dove in in napoli centrale bello bergabriere adottore non mi salvo il gioco mi dispiace che apri e poi da premesso salva carcolo dell'irpef carcolo fattura eugenio fattura dell'irpef aiii barbero aiii oh porco di ah ah ma la cassa di silent gem 3 è piena di roba silent gem 3 ma non la puoi più inquinare affango tiro fuori il roba che non fosse la sua altra roba fu così ecco ora 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 fai mettere questa cosa devo fare abbiamo delle carote c'è un c'è un iron blades c'è un iron blades e' morto vedi se vuole censire la moto di Minecraft pitta che se le sensisce quella in inglese non va bene eeeh lancia un'ascia ora doppio lancia la diarrea? mmmm non lo so e' controllata metti la mano dentro il culo per controllare se la diarrea eeeh eeeh tirala fuori veloce tira la fuori veloce e' incastraio eeeh e vabbè ormai e' farla rimanere la e' ormai e' la fine evidentemente e' il suo posto quello hai capito? comunque si ho ancora il gesù Gabriel ci sta ci sta ps2 dai poi si fa un bel torneo ps2 suuuu su ps2 e' the game dragon bomba gt dragon bomba gt hai detto o' la sciufa tatania germania non torno più ah con hitler viaggio cazzo spee a rubare napoli parigi o napoli ci manca che ci manca? spe 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 io odio ah ok pippo 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 fermo 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 apri quest book e fai i prendi tutto e' riscatta il terra shutter e' non vorrei che sta qua dentro però e' c'ha lob eh? e' doveva e' essere tipo piccolo infatti potentissimo perchè fino a che che spacca non c'è scritto vabbè e' proprio spacca che merda come si fa sto cosa? non si crea compeli aspa dobbiamo fare una cosa divertente faccio fallo pure tu fallo pure tu Londra napoli parigio zebelu ok minchia se dura cacare dentro un messico ultima volta che ho controllato si minchia oddio mio ma quante cazzo di di gemme stanno in questa mod e' che si no la patita e le patate come state molto meglio le patate item silent gem ender slimeball ma che cazzo non metto il nome vero almeno ah chris aiuto porca putt apposto non è che ti fai male scendendo no ho fatto extract e non deporte porca puttana vabbè niente non è che ti fai male mi 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 fai male ma non ho fatto ne palle nooo nooo no per raccogliere quel pezzo che si vede eeeh io su quattro ansaplatico navigare in mezzo al messico e dai in mezzo al messico con la sua barca da messico la sua barchetta messicana allora diamond farm mettiamo questo qua giade ah oh oh dove stavano le enderperle ecco qua parigi parigi che cazzo mi ha dato la raid the sensor si navigare in mezzo a me si può navigare in mezzo allora ah allora devo fare una cosa devo farmi questa roba qui do che sta ehm first ex nilo extraction generazione generator ah 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 ok il piccolo rio da fare in manalens 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 pam 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 iron è un po' di iron man quanto però ah quello è un po' di diamondi ah 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 sta la monnezzaria sono due diamondi ma che qua c'è un buco pieno di pochi sto posto comunque ci metto ci metto eh abbiamo una cassa wow ma no ma cosa si senti mmm ci metto 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 questo no vabbè dai metto questo vaffanculo ma non abbiamo i diamanti eh no manco mezzo manco uno due tre eh dove si possono craftare i diamanti in qualche modo ehm ehm no ho finito il mana barca puttana ehm ehm cazzo oh che quadro è siamo messi in manuale mmm ma cazzo 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 ore cazzo 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 quando vai a minare bla 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 beh ho fatto il mio materiale preferito usa mano per disinterno ma posso usare il mana per creare gli ore ehm ad avercelo il mana abbiamo molta roba da bruciare per caso eh abbiamo un bel po' di legno o 300 tx mmm sei tipo tantissimo legno hai materiali triangolari ehm no 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 non proprio ho trovato nessun materiale triangolare in questa nave ahahah ahahah ok stanno pesciando stanno pesciando stanno pesciando stanno pesciando quasi quasi oh stanno torna lì no il villicchio ruba tutta la notte tutta la notte dai dai quante ne ho ah devo fare la lente tipo lenz lenz lucky block oh lucky block non esiste basta basta l'ho inventata ti dici ci sta ecco qua no si tu ti inventi le parole tipo tetrapack tetrapack tu hai la faccia da tetrapack da questo è che innanzitutto quello che hai a fine tetrapack allora vediamo ti ho rubato questo non volevo tutto ehm glaspane azz mi sento un po' di glaspane eh è di vetro eh si è un bel po' di pane c'è abbiamo un po' di ecco qua un euro ogni dici un euro al kilo nooo non è un euro al kilo un euro ogni eh un euro ogni dici cazzo vende la terra cosa che vuole vale così poco sabbia 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 un euro ogni dieci chili guarda che la sabbia se la mangiano in africa non la ricordo dalle imprese in tizio in africa la sabbia se la mangiano no nel video di quel nero che si mangia la sabbia cazzo vado a tenere una voglia di sabbia sembra un po' mi sembrava un po' mi sembrava il pancino per scorreggio vai tu test t 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 a porre pila pia 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 p a allo water Quasi che è water? Will Oh, puto il bottle Allo Andesite Comingos Gobleton con diorite Pebble Rubi 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 Chi ruba? Chi ruba? Chi ruba? Scuola scuola Da, amico mio Granita sotto Ah, se bruci la Ah no, questa è merda Braciola No Se metti molte È il quarzo, fu cazzo Palle Ufa Questa non è troppo male da fare Ci sono le blaze road per caso? Ci sono 5 euro le macchinette Ci sono Ufa Sto porco Vai che fa dei rubi rubi Ah, che stava delle carote, carote, carosene E delle carote per caso? Io le ho mandate tutte Ma porca putta, davvero No Non mangio da quando sono entrato a te in gioco Mi aiuto Mangi Chi fa male No, hai da cazzo visto le carote? Ma che hai lo piantato? Ah, ma si vede che hanno ancora scavato un cazzo di diamante da quando ho iniziato a scavare qua Ma che è? Non ho piantato un cazzo E amicos Ma che fai faccio vedere un cazzo di diamante? Ma lo mangio un diamante GPP, 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 GPP CPP, GPP, 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 GCUPP Ah's a吃c ptp, Venice All'imfinitus Mi cacca E abbiamo... Ah abbiamo la gitti quanto in fermo abbiamo? Inf откры...? Infer... Ma c'è la kff, gmod kfgp che è scemo? io già l'asta what's the problem? perchè noi non dovremmo andare a kfc? dammi una sola motivazione e ti spacco di mazzate finchè non ti guarda più ti andava più una faccia per guardare c'è pa' dubbi dubbi da bada uffammi servono le carote ma che cazzo? ma non stanno neanche più porci? non beh è mai stato i porci? no l'ho ucciso il tizio panzone di prima ha fatto un salto e caduto e ha ucciso tutto quello che stava in zona sei le affezionato eh no mi serviva uno per la quest no no non fai niente ah vabbè vabbè dai b nest beh h o sponata una mucca una mucca e ce n'era già un altro la non è che si è comparsa si è comparsa pure l'altro e sarà morto ah ah rosa dimmi cioè perché dovrebbe essere dovrebbe morire dimmi come si fa a restare ah ma è quello ho sbagliato a cliccare è una PS3 quel tipo eh si 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 lo so purtroppo lo so e c'è il suo numero ci sta me lo passi dovrei avercelo ancora non lo voglio più il mio pusher 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 il mio pusher 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 è lei è lei è Leo è Leo 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 bubbi 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 ok ehi Gabri ci sei ancora per caso è nato il l'OH cock di tre come cazzo fa a crescere i tre i got the blue stuff the amigos ok ok boom 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 ba ba boom hey i've got the blue stuff that you want hey i've got the blue stack that you want nah blue stack ok ok sono confuso è anche morto è anche morto oh merda si chiama di una cassa no due cassa aspetta ecco qua fatto non è un'altra cassa ecco l'ho messa nella cassa dici l'angelo vabbè a posto stavo sistemando quegli alberi un attimo e tu fai scoprire casa perché c'è un lama sull'albero chi l'ha fatto salire perché c'è un cassa sull'albero come c'è arrivato l'ho messa il gatto mannaggia ho un bastard l'ho vendetta contro i poteri forti l'ho vendetta alledetta mi chiedo più piantare salvere magici comunque porco dio crescono troppo enormi crescono troppo in fretta prendi attento ti gela metti il cappottino eh può essere può essere interpretazione libera mangia il formaggio barbero da ballicchia sarà perché è ebriatore sarà perché è pelato è pelato barbero pensaci tu ma ne c'è barbero 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 sei nero nero un nero del cazzo si bellicchio no no al mio amico no sono stato io al mio bimbo ne ho riferito faccio la cacca nella terra di mezzo allora ho fatto anche il formaggio vediamo butto un po' qua eh un po' qua aspetta io ho bisogno di una bottiglia ah ecco perché avevo tutto merda ecco perché avevo tutto quel ops i bellicchio siamo noi per la fornace i bellicchio ehi amico che ci fai lì io ho lento casa se spavano questi oggetti in merda oh un diamante un diamante un diamante orco di ho trovato un diamante solo un uomo nero ed è che becci ce n'è di neri ce n'è di carlo cote in italia non entro in giro no c'era una petta prima serviva porca puttana vengherino oh lo trova no vengherino carabiniera che cazzo ho preso una nuvola con la bottiglia che cazzo si a dire ma che a ferma che vuole ma che a me ne faccio la nuvola in bottiglia scusa ok se no qua si è arrivata la petta cazzo ti capisco quel mio genozione diceva crescere un po' la sedia ah quasi presa posso spammare le palle no non l'ho presa ma forse fare prima venghi la luce tu l'hai accenso no me tu me che stai accendo ma accende ah 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 c'è la luce che non vedo un mio e ora ci vedo ora posso combattere venghi la luce oh porca trottola venghi la luce e appoglio pop 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 eeeh i zoboli eeeh ah bottolo bottolo i cialoli eeeh oh porc oh porc oh porc oh porc ah oh porc e niente Ho una nuvola in bottiglia Guarda Appena è finito con le palle in bottiglia C'è qua una palla in bottiglia Che ci faceva con una nuvola in bottiglia adesso? Niente No perché l'hai rotta? Ma vorrebbe Ci puoi saltare sopra? Sì Abbiamo bottiglia infinita praticamente Ah no questa non diventa più Cazzo funziona Ma che cazzo? Ah ma scompare dopo un po' Da che mi serve? Niente Sarebbe un po' un cazzo a nuvola in bottiglia No 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 Ti plop 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 Jimmy poca Ma dov'è il ferro? Intendi questo stack di ferro che è un mano? Pisci a me Ma la fornace ce l'abbiamo No una fornace di numero Eh vabbè ma non c'è un cazzo Ci abbiamo blender, le cose però Abbiamo niente Siamo i piedi di cristo E non più libero delle queste Sto lavorando sulla refiner storage E non più libero delle queste Purtroppo Sto crappando una roba della refiner E vabbè ma se il mio libro delle queste Faccio quello Faccio quello Che si chiama quest book Renz E picchiai più deboli Picchiai deboli e ruba i giovani Giovani vecchi E non si ferma mai Libro e dolomite E i bambini Nolini Vado a creare la dolomite Un gabbro Hai c'è il gabbro C'è il materiale gabbro C'è anche la moldavide Abbiamo recuperato il mondo C'è bit Il permafrost late E vediamo bene gabbrozo Gabbrozo Questo Combatti i pelicani Pure lui Tutti combattono questi cazzi pelicani Vabbè Crea uno nuovo dai Capitan Danny Uncino Robo Bombarda i bambini E' disfittevoli Eh si No non fare R Allora mi serve la paper Ah madonnina Io voglio inizio a fare Garden Garden clock Hai capito Sì o no No non vuoi capire E noi altri Oggi è il primo di Gesù Morimo Morimo Non campiamo Cresotto toil Dove fare il cook oven Allora fare il cook oven Aia Tanto clay stone Orca Gabondo Ma abbiamo la glowstone Ehm no Siamo cazzi di niente comunque Siamo essi piedi di cazzo Sera piene Ma non hanno effettivamente un cazzo Un'erroba casissimo Ma La glowstone Vedi come si fa Vola E abbiamo una cassa Libro Qua Pam 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 Ehm Come dire che la dobbiamo craftare Con Lastral sorcery Che mi cacca addosso Ehm Aspetta Mana pool C'è l'alchemy catalyst Ehm Ci stavo lavorando Facciamolo A me questo è tutto Cazzo fu Eh va bene Ci stavo lavorando Alla cassa difficile Tutto qua Ehm Mi so solo scuola di farlo Eh se mi trovi un altro Blizzero De lo faccio subito Se trovo Un altro Blizzero Ecco qua Apposto Blizzero Blizzero Trovata Libro Che c'è l'ho Eh mi serve un ender pearl Che ne abbiamo un botto Qua dentro Un attimo Muoviti Gabon Scusami Ender pearl Ma funziona Quindi la botta Allora Tu ho questi fiori qua Che punta qui Tu ho questi fiori qua Dei dare qualcosa Da bruciare Che sono End of flame Quindi ci butti Questa che va a fuoco E loro Lo bruciano Per metà Cioè Va a metà fornace Qui si usa Bruci tipo a 300 Questi lo useranno Per 150 tick Ed erano L'equivalente Di in mano A questo qua Poi ci sono anche Altri fiori Tipo il fiore dell'acqua Questo che Non l'ho fatto Non vorrei farlo Per il fiore dell'acqua Non è infinito Perché dopo un po' Si spacca il fiore dell'acqua Mi serve Mi serve E usano Un po' di merda Allora Mi serve un po' di cobre E anche stone Uccidi Billionati A quel caso E vabbè Allora Ma che è sta roba Deep slate Cobblast Noi questo cazzo Cobblast Merda Da sinistra Potete notare Umberto Cosa? Che ci fa? Eeeh Umber Umber Non da tempo Da te è vivante Secondo me Respira Voglio Se vuoi L'animazione Tipo Eh madonna Eh babbam Non respiro Ma si può fare una crafting table Che mantiene oggetti? Io faccio quello che voglio E fai la crafting table Noo Eh dai Police diorite Allora Living rock Ne abbiamo uno Due uomite Il gabbro Ah che abbiamo il gabbro Ah dite che abbiamo il gabbro Ok 4 giusto giusto Non so per quale miracolo Abbiamo 4 Eh due di golden Ok golden jumpy Ci abbiamo Golden jumpy Ok abbiamo l'alchemic catalyst Cammello Abbiamo il catalay cammello Allora Penso Penso che vada qua sotto comunque Apriamo Non lo so Prima voglio un po' Cosa potrebbe fare? Trasmutare gli alberi Prima di smutare un albero Aspetta Hai fatto il catalay Stai qua sotto Stai qua sotto Dico per provarlo Come si usa sta cosa? Eh Buttacelo dentro Oh Ha funzionato? Ti ha dato la glowstone? Eh Alla glowstone A posto Con noi qua Ci mettiamo una Cazzo Di patate Dobbiamo bene Gabonzo Slime ball È una slime Dal cactus Un attimo A crescere Il cactus Vaffanculo Vai Cresci tutto Il cactus Gabonzo Vediamo bene Gabonzo Wow Ok Un po' Di cactus Ho Abbiamo Una sand Eccola qua Sand Che cosa fa prima Di fare Gabonzo Che ha rotto il cazzo Gabonzo Wow C'era rotto il cazzo Gabonzo Wow Ok Poi la diarrea Gabonzo No No Pfff Tipo il rituale S Pff Ti servono dei vetri Ai vetri Stavate la cassa L'altrara Non stavano La cassa vetro E ne ho 19 E servono tre 308 Allora Stavamo a fare Il coke Il coke oven Che vuole iniziare a fare Un po' di sementi Così andiamo Speditissimi Un po' Volendo i black lotus Ricaricano al 100% Il pisello Allora Quindi se Manche il mana Potete fare quello Il pisello Al 100% Pensai un pisello A metà tipo Invece no Al 100% Lo clay Brick Si fa con la clay Ah merda Per stare a fare Solo ci serve Per forza Il controller No Sulla Up led Non è necessaria Vabbè Sì Porco dio Sarebbe un altro Diamante No Non siamo Un energy Acceptor Tipo anche qua Porco dio Porco dio Porco dio Cito lo schifo Cito lo schifo Che senso Ah Si due lupi Posso scopare i lupi Posso scopare i lupi Oh Samuoc De merda Oh Della clay Stavo cercando Goloso O me la mangio Bischo Sandstone Posso stare anche la sand normale Forse no No Non può essere la sandstone Cazzi Mocca Cazzi Mocca Is Oh yeah Oh yeah Cazzi Mocca Is Oh yeah Ecco Niente Venite a qua Alla festa Non possiamo pendere avanti Eh no Ci sta Ci serve un altro diamante Eh Rotti il cazzo Gabonzo E ho messo una vita A trovarlo Una porca Troia Gabonzo Rotti il cazzo Sai che abbiamo un diamante In giro che va camminando No vero È bello Di solito i diamanti Non camminano Dai che il moto Lo trovo io Oh Il binest Porco dio Noi dobbiamo entrare nel binest Giusto No no Lo possiamo fare però Porco dio Preso fuoco Affamocca Mamma Asho Kesho 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 Miselium Eh No Spacca Che Francesco Miselium Eh Eh Lenzo Cazzo Eh Porca Puzzetta Nero Oh Vabbè Eh Non mi caccare Il cazzo Gabonzo No Parate il cazzo Gabonzo Vieni qua Gabonzo Ah Cazzo Gabonzo Ah Ho rubato Il carbone Gabonzo Ah Forse così So mortus Questo è Perché Per il parallelismo Sposferico Ah porco dio Sempre così Sempre col Pegabonzo Un abbio Oh cazzo Mi serve Mi serve Mi serve Eh Cazzo Merda Oh ma c'hai un po' di roba terra Hai una bottiglia d'acqua per caso L'ho bevuta Hai una bottiglia di luna C'è di nuvola Porca puttana Ah ma dov'è Devo craftare la bottiglia Porca puttana Ah 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 Come è combustibile fossile Parca troia Ah No Uffa I like the sound of a broker Bolses Come faccio a prenderla mo Ah 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 I have cancer Ah ah I have cancer That's what they say Ah 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 questi stupi Ah 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 Troveremo un'altra petta Dai Ci vediamo bene Gabonzo Wow Fantamam Invincibile Sei tu Sei il terrone Di tutti Siamo bene Saddam Quanta merda Quanta merda Quanta merda Quanta merda Mau Ripeti Ripeti Non ha capito bene Allora lui Perché sono Con un c'aranja 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 Perché sono un'aranja Pisellone Piloni Marum Marum M-M-M-A-R-Struz Anzi l'altra M-M-A-M-M-A-U-A-I Caramba Cazzo 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 Marum Marum Che giro Cazzo Sì ma qua c'è un sacco Di merda A terra Ma che cazzo E non c'ho Spazio E metti A posto A posto Spazio Poli estere Qua Cazzo Ah Io compro montanbike Quaccom 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 No la tua merda Non riesce a non fissarmi Aiuto Mi sta fissando Uff La cazzo È il diamantos Sì Maranza Ah I Chiaro Dai che ve Troppo Un diamantos Non è che si può craftare un diamante Non è che si può craftare Diamant Si può trasmutare In qualche modo No Supercharging Possiamo supercaricarlo Mmm Umberto dove sei Starlight Ah No Ah beh Niente Umberto dove è? Umberto chi è? Ma dove cazzo Umberto Da che ne so Che è successo? Che mi ha chiamato? Ok Ahia Porca puttana No mi serve La blitz road Lo prendo Ah beh Non l'ha troppata La prendo in volo Fidati Stai ancora volando Troppata Ma non l'ha troppata Niente Ma non l'ha troppata niente Di più Più Ma non l'ha troppata Ma non l'ha troppata Ma non l'ha troppata ne capisce com'è bella la città di zibillecchio zibillecchio è soltanto il rispito eh eh 1,2,3 me le spiace sulla me no forse no però se non basta forse fate cazzate oh mi sembrava un'ascia, non ce la faccio più una coscienza andiamo a rispietta come fanno via suon quanta sera in duolet lampedusa, lampedusa quanta sera in duolet lampedusa, lampedusa rari di 60 prramm came cingo la mattina quando traffico mi hai permesso tutte cose ma sei nanna Ma perchè sei sempre fatta e soltanto per dispietto, per dispietto, per dispietto Ah siiii Può fare pom 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 Altra canzone ancora Si può fare Si può fare E non tiene caramelle Non si può amare Come è bella, come è bella La città è della terra Eh si va bene, va bene sta roba, dai vaffanculo dai La città è molto La faccia con questo, vaffanculo Non esci di merda Tutta questa gente si moltiplica ogni giorno Lampedusa, 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 Lampedusa Quanta gente ha Lampedusa Si rivellicchia un'albanese Ma cazzo lo mettiamo Eh non lo so Ciò sti cazzi sempre Mi sento fortunato Tu cacchi Sono cacchi Sono cacchi Ah Guardate zubbolicchi Oh ma è bella come È bella Ah io tra un po' inizio da capo la Global Game Jam Ma può Adesso Vai in bevi Giochi in bevi Dai Vabbè Vabbè dai Sarà per la prossima Allora Ci consegniamo in tempo per la prossima Dici Oh ma io c'ho la base di peperano funzionante Pipiti papiti C'è la base di pipiti papiti Ma sti quel giorno potrò caccarti in braccia E va Uhhh Iac Iac Manneggia Giusuai Stammi le palle bambino E' brutta accata a me sopra un po' Tyler E' brutta Posta un'altra cosa Ha cominciato a dire Hai vede Quando c'era lui Ah noi ti conosco Vengo d'alto lo stesso posto Ti stavo seguendo Ricordo le cose più belle Il colore dei triangolini Il colore delle ascelle Quali colore delle ascelle? Tu? Contario moce Ma solo il 3DS hai aperto Hshop o era un'altra cosa che aveva chiuso? Hshop Oh Hshop esiste ancora E cosa che doveva chiudere? E' nuovo Lo shop ufficiale Ah Che cazzate Cambia la strada Dammi le palle bambino Ah noi io ti conosco Rubo d'alto lo stesso posto Il colore delle stelle Cambia il sorriso e due negri Ai 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 Allora Due cacamelle Bah 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 Minchia Oh io ho finito Grazie Io sto rientrando E' mai assistito E' soltanto diamanto? No Mi manca soltanto un diamanto e possiamo partire Dove andiamo? Ho già 8k di spazio Dove andiamo? Napoli centrale Napoli centrale Un po' fa Ok Giovedendo bianco Dammi le mani bambino Ma questa canzone è di Sergio E' di quel vecchietto la Yuck Chicafizza Un po' che abbastanza C'è una saccia io è una più bella Ah e' una piccola aveva i capelli Pure io Lui ce n'hai ancora Non è vero Non lo dire in giro Non lo dire in giro Vengo dal fantaposco Dal fantaposco mio Eh si Claudio e Visio Mmmmmmmmmmmmm Come si crea la lava? viene doyodo ити La lava con la fire essence Fire agglomerati Per fare la lava dove mi servira lava Lava come lava Uh light well Dio mio Light well Luminum scrafting table, starlight audio Ma come cazzo si crea? Oh ma che porco oddio E' sponato Crash Nebula Ma era o non era sul ghiaccio Non era sul ghiaccio Non era sul ghiaccio Lo diresti sotto giuramento Lo giuro Chi sta morendo? Ma c'era un cactus signor lupo Eeeh sembrava buono Tu sei in alcuna patata senza alcuna patata Tu sei un c***o 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 Ma cazzo Con giurazione Ma la carbonella scusa è più facile Anche tu hai otto anni effettivamente E io Piti piti E io ho otto anni Come ne hai capito Table of sunrise Non ne voglio Rice Non ne voglio Uff Dove ti butto Ecco qua Allora spruzza Siamo messi male Siamo messi male Siamo messi male In qualche paese arabo Le chiappe 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 Quanta merda mi hai fatto prendere E ce n'è stata Eh Si ho visto C***o Oven C***o Siumate 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 Eh Quelle levate al c***o Il trucco di merda Oh Porco Dio Di 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 Come se è la stessa barca Ok Eh Eh Oh Sono stronz Merda E vabbè Au 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 Un giorno Un giorno Ah minchia Ma 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 E anche io Sennò Uh Bello Uh Abbiamo il totem of undying Io non voglio sprecare Quindi vorrei buttarlo qua dentro Ma Tutto pieno Uh Affanmi Ciucciolo Eh Sera appena morto Ma che hai sprecato il totem o non morte Eh Poi evitai di Portare tutti quei oggetti in giro Ma che c***o me ne frega Ma che c***o me ne frega Ma che c***o Ma che c***o Si stronzi e merda Se mi ha passato erano sei muri Eh Ma questi stronzi Con quale mob vote li hanno giunti Eh Altefetto Uh Chris Poi sta morendo da solo Ah Mi sto stronzo qua che mi stava attaccando Oh Morti tutti Posso Caccare nell'orto Aiuto Vaiuuu 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 Posso c***o nell'orto come gli altri Gli altri non c***o nell'orto Dove c***o no? Con la c***o del rap Uuuu Ma nooo E' rivedi al c***o Mucca di m***a Ci siamo mandati Iac Io ho finito Vai Bricks Anzi 3 Bricks Candy 1,2,3 Qua 5,6,7 Aiaia Aiaia Alla tromba Alla tromba Dario E' guai Non ammazzare la pelle con la mucca Stappo dai Stappo dai Au Allimit Abbiamo un'altra mucca Au Aspera Fame di m***a Di quante mucche abbiamo scusa Caccia di m***a Una stella Una stella Una stella di buggata Che vende Mo' tipo vende gli smeraldi Cioè vende i diamanti Non vende i diamanti Vende la Cabbage Uuu Che Oh madonna Vive la Cambogia Vive la Cambogia Eh ma se tutti questi obituari li buttiamo giù magari I cittadini sembrano di inventare Oh 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 Bello E' importante la salute del diamante Ci sta Oh Stavo liberando spazio e buttando gli obituari Non è che ci può craftare qualcosa No Via Che sei Che sei Andiamo a Ho trovato Un Pappante Mi fa cacare sta modpack Perché E' spilanciato in culo Porco a dio Dai A me piace stupido Oh M'hai crasciato il capo Perché lagga questo Sto andare sta fanno Oh Con codice eh Vabbè ci stas E di stannaccio da quella parte Il bimbo annaccio Non posso scappare in eterno No non c'è C'è gatto Gatto merda C'è Maticx Era bravo Maticx E non è nante Eh sì dai dai Poi c'è quello con l'acrello là Che l'ho sgamato Fai Io non sono un acre Colpa di Eh Quella era E Raffaele Nooo ancora i Vex Mannaccia a Cristo Ah guarda la colpa a te E' lui Eh tu stavi fermo Vabbè tu voglio ma che cazzo vuoi C'è impossibile stare fermi Vabbè chi è la bimba i misteri loser C'è mencione a toga Bro C'è qualcosa C'è un ca Raffaele C'è era Un problema Non anche Il problema C'è un po' C'è un po' Il problema C'è un po' 6 e da g6 ciro 4 lo cazzo è raro in diamante è presente e questi c'è il raro con diamante anta sette e il santo è il santo ecco credo che me ci sei sabato sera per favore quando la spada in mano attirò gli oggetti io le più puoi dire magneti 3 forse ora ho un'idea anche io ma che mi abilità 9 anno cosa che mi attirava aspetta fermo fermo un'ape 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 cazzo poi insomma dovevo depositare la merda porca puttana ogni volta che esce non c'ho più quella bottiglia vaffanculo va che ogni volta non ce l'ho ah 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 cristo dio per aver colpito l'ape sei incazzata con me l'ape fermo 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 non me l'amazzare vieni qua bella bella apposta ho un'ape in bottiglia apposta ape in bottiglia a affanculo va ho che male faccia però e uow truttu cazzo mob di merda c'è un block breaker mh no ma che a quest'ape no non mi che ho perso a capo il libro delle quest oh madonna mia che palle uffa ma che se sta il quest buco no ah 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 ma qua sanno due quest book bello ah perché sanno tutti questi obituari qua porca puttana che che s... ah 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 si può essere di attivare che cacchiamo tutti sti file di merda no vaffanculo mais poveri wu allora bambalzone e che fa? ah niente dice niente prendi lo basta ah come serve vabbè abbiamo una pimpottia adesso che non serve a niente però la pepita questo va giù questo va giù oh rumbo cazzo otto servirbbe un altro ma cosa che brucia è solo un oggetto che è? si ma c'è un diamante ogni trent'anni qua ma che cazzo oh madonna mia ok porca puttana coke oh oh mmm un attimo mmm a posto questo 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 ce l'ho uff madonna mia madonna mia ah vero le galline potrei usare vaffanculo e le galline è ammazzare e abbiamo ammazzato e bisogna fare qualcosa per questa situazione qua però vorremmo un'arraffattibile Oh, madonna mia, 15, abbiamo una sandstone, ecco qua sandstone, sei protagonista delle tue palle, ah, vaffancofio, um, erto, string, ah, questo cazzo di fiore, mi portavo a che parte prima che spacco tutto, ah, vai qua stronti, ah, non ce la faccio più, zibilla, zibili, zibili che ho albanese, canaus, canaus, mi sento un cazzo canzone, si è bassissima, però capito che canzone è, quella bomba, quella cazzo billy, incre, che è questa figa, che è questa figa, 2002, 2002, 2002, 2002, e la merda è così liscia, ma dove me l'ho messo? Ma dove? A me mi entro le cose da inventare, ma non so effettivamente dove vanno, che non c'ho spazio, ma dove cazzo va? Oh la la la, 2007, 2007, la la la, adesso sono quasi sicuro che sia illegale, e se non è sicuro che non sta capendo un cazzo, boh, vabbè, tutti i lama caccheranno il cazzo, quindi mo' li ammazziamo tutti, oh un lazzo, wow, cosa serviva il lead, non mi ricordo, c'era una cosa che, ah qua dentro, insert l'asso, e questo è l'asso, ah questo è, ah vuole proprio l'asso, l'asso aperto, ehi, quanti anni hai? mannaggia lo stupratore, eh qua è la parte divertente, oh ma porca puttana, quasi che non abbiamo mezza stringa, oh madonna, so già lo stesso, dai si può craftare con quella roba alla missa la stringa, forse ho trovato un modo più facile per fare un diamante, rubando, no, se tu crei un antiprotonic nucleosynthesizer e metti del carbone e dell'antimateria lui ti crea un diamante, mi sembra una volta più semplice da fare un po' è più semplice, mi sembra di sì, come la facciamo l'antimateria? allora va bene, dai, o nel polonio a senso, per me c'è, per me c'è sta, il polonio la facciata con gli scatti nucleari, o me che ci vuole, oh no, ho fatto cazzata, Sessione nucleare Possiamo fare dell'acqua E' un po' lunghezza Ah, fanculo Uranium E' quello che ci vuole Ce l'abbiamo Allora, possiamo fare Un milione e mezzo di materiali diversi La reazione nucleare Crea tanti materie per fare un diamante E' più facile che vengano qua scavato Mmm Farò più divertente Da fare Aiuto Ma va a farlo Ma per essere aver scavato così tanti oggetti Che i dischi da 8k Non servono più un cazzo Sono già un solito Vabbè, me vanno bene comunque Ah ma Ho fatto l'hammer E non la merda Madonna mia I see baby I see fight I think la merda Non dava la pants Abbiamo il call Ehm, sicuramente qua terra Accendiamo un po' Ehm No, non c'è Dio merda Oh, mi sono tutti i coglioni Qua non va Ma eccolo Ma perché non esce? Ah no cazzo Cos'è Battista 309 Che cazzo è Battista? Perché 309 Caracol Felipe Scusa aspetta Io sto piccone L'ho fatto ora Eh, l'ho quasi rotto C'è C'è Su 1100 blocchi rossi C'era soltanto un diamante Oh, madonna E come si può scraftare? Ma tu parli di materie Che ci vuoi? Ha capito Allora, guarda Vuoi fare una cosa divertente? Brava Ma per te serve il diamante? No, no, no Proprio si può fare una cosa divertente Se mi fai 64 di stone Te lo faccio il diamante Come fai? Allora 64 di stone normale? Ma meglio Così dice la 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 J Però sicuramente non funzionerà Cos'è in che senso? Che col La Il fiore che avevo fatto prima Posso fare L'ore In voglia teorica però Ma vediamo Allora Ma sono 38 38 di stone Mi serve un altro po' di stone Brezzerode Hai detto che ti serviva Prima Però servono sempre Ok 3 di stone Dai un po' di cobblestone ragazzi Dai Hai della cobblestone? La terra Stai prendendo fuoco a casa Porca putt Parla di L'idealegno è un po' stata una cazzata Ehm Vabbè Gli alberi Porca troia Vabbè Perché sono gli alberi Qua sotto c'è un fuocarello C'era il fuoco Mi piace Mi piace Dorian Gray Senti Va bene Dai Prima te la che trovo L'uso per farci casa Dai Ho ne come un blocco Non mi più apposto Finale Ma Onла Non mi piaccia Senza Un po' di tabou Pop 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 Form bene Pop 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 Ah ma questo lama del cazzo, ma ti levi, ma che coglioni ma morissero tutti a posto bom, 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 bom eh, che palle dai un po' di stone eh, un auto clicker, dai, abbiamo capito mettiamo uno a uno e si fa un po' di pietra eh, tasto destro mi lasciare un po' di roba a posto ah, ma che sto eh un bordello allucinante che bordello, non so a cosa ti riferisci ti riferisci ai stack di pebble ah, guarda cosa cazzo pebble l'ho fatto questa volta ho esagerato mi sembra che l'altra volta non l'avevo messo a uno ups vabbè, ora siamo proprio nella merda problemi logistici, agogo senti prendi un secchio di lava il proceduto no, eh, è ad avercelo credo ci serve vai a un buco nel pavimento di classe ad avercelo ad avercelo un pavimento poi ci scoppia solo ah, ah annaggia eh, ti ero attimo così allora, se non è bene io ho quasi fatto io ho quasi fatto io ho quasi fatto tra cinque minuti me lo giveo sappilo vabbè vediamo po' vediamo po' che è possibile tra un po' ho cominciato a pensare che forse faccio prima davvero a fare l'antimateria era molto più veloce probabilmente si probabilmente si io ho fatto una cosa molto divertente davvero altre trenta casse ho capito dopo troverto un diamante faccio l'antimateria per davvero basta non ma ma mia ah dove è tutta l'orba che ti insegue oh oh nchia bob bob Poi puoi 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 Oh kit è morto, Minecraft di merda che ha giunto si è stronzato Oh io sto polare di merda Oh merda ma quante cazzo il pebble l'ho fatto? Esagerato Ma come l'hai esagerato Oh sono stancato, ce la faccio più Io ho fatto Ma io Si è arrivato al cazzo stronzo dovrei aver fatto How are you today? Ok Ok 10 vediamo un po' Vediamo un po' come fu Oh porco dio Qua c'è la cassa libera Eh beh il pebble si potrebbe decraftare proprio Allora Fammi prendere la mia spadonza Mi 30 picconi Allora Merda Me ne manca uno E sto muro del cazzo la telepalla Ok Allora vediamo se funziona Ho bisogno del cosa per far dire Ok questo coi è un po' se funziona Guarda dove sta qua dentro Oh si la panza Forse un po' pericoloso farlo a bordo a bordo di tutto Come servono questi stacchi di cobra stanno Vabbè è saltato È saltato Ah da che muore tutto in questa casa Tipo casa della mamma di Timmy Crepa tutta Ok 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 Oh Che fa che fa che fa? Ma chi? Ah Sicuro? Che cosa? Che cosa? Ah Sta sbrelloccicando Non vorrei che sta davvero facendo il diamante Non ho mia idea però Come funzioni Mi sta sbettando? Mi sta sbettando? Non lo so A te lonti Un picchio Un uccello Un uccello Un uccello Ti rimetti in sé sto merda Ognuno Coglione Oh come cazzo Senti Apro google dai Tu cazzo No 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 porco Ah ma non stavo a fare niente Queste particelle di che cazzo sono allora Eh ma ci sono sempre state Ah come Spero mi cercare su internet Allora Orachid Botania Allora Ok It's a functional flower Added by Botania When supplied with massive Amato Nervous stone blocks into horse Ogni 5 secondi Ah quindi bisogna piazzarla proprio Un po' Bisogna piazzarla ci sta Ok Eh dammi un po' di stone Ah Ah Wow E' qua un attimo Vieni qui Micio Aspetta una attimo Ho avuto sto muore del cazzo Bello Mi sa che forse dobbiamo Devo dirtelo prima questa cosa Guarda qua Guarda qua vieni qui di Hai trovato un diamante No no vieni vieni Magari Ma il diamante è possibile? Si Bello No 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 Finiti i blocchi Però Molto più veloce Allora devo fare un botto di stone Quindi ho bisogno di un po' di coal Che abbiamo appena trovato Quanto brucia? Cipawi Che piedi Ok Ok Mettiamo Avevo una persa Iak Facciamo così Io lo e po' set Ok, minchia, un po' lentino Diamante, diamante Ah, spacca effettivamente tutto insieme sto piccone allora Ma in una linea Se fai shift da sé se spacca tipo tutta una linea insieme Putta shi Ah ma c'è la merda dentro E' urto cazzo Parapam, parapam, parapam Vediamo se in questi 6 esce Vaffanculo Beh, cominciamo a fare sta antimateria Annaggia l'antimateria Oh madonna mia Boh, lo fa se cazzo, cioè so piene Senti, un black diamond, può tornare un diamond? Purtroppo no A meno che vediamo un po' Bambini No, ok Ma qui Ma al tendaia come si crea Palletto troppi divanti a cazzo Palletto troppi divanti a cazzo E quattro ne avevamo Anzi no, quattro era un po' difficile Un po' di più sicuro Ho fatto due piccoli in diamante O uno solo Ehm Tutti avevi piccoli in diamante? Yes E allora tre, so sei E mi ha full diamante Eh no, ho stato almeno 10, 11 Ah, dia mia Sperò di più Minimo quello Allarga un po' Abbiamo, abbiamo la crafting wand Conversion No, tipo Builder Builder No, no Non ti ho fatto Niente, è finito il mana? Non lo so, vediamo un po' Eh sì Ehm Sperò Mettiamo il black lotus Vaffanculo Frega niente Eh, proprio potremmo usare Ogni volta che cagano Piscia grossa Aspetta Ok, l'ha accettato Ma appena Dà un piddino Si dovrebbe prendere il black lotus Ehi, vabbè Black lotus lo ricarica al massimo Oh Ah, si perché non lo sa da andare qua E' lo porco Vabbè Appena finirà C***o grosso Lei, puzza Andiamo un po' Mettiamo anche queste cose Piscia grossa Ok Ma finita di disattormare quella roba là Oh No, ma c***o Minchia Pensavo molto di più Minchia Lo ricarica al massimo Lo ricarica un c***o E buttiamone tutti Vaffanculo Ebbene, guarda E' un bel po' Quanto è? C***o Vabbè, dai Niente I diamanti non ci sono più Non esistono Spariti dal niente Ehm Possiamo trombare Andiamo un po' che trovo Smeraldi Ma come c***o Poi si è già finita Ah, aspetta Eh, ma ho messo il black lotus M**chino M**chino Dovrebbe ricaricarlo al massimo Lo scrivo Dove vai zingaro Mano C'è un affonso di mano maggiore Eh, non so come c***o metterci Ma c***o è il quest book Ecco qua Shabby, shabby Wow Underground No, no Che sta roba Reward Reward Due diamanti Se facciamo sta roba Ma 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 Eh ma sarò due diamanti per crearti Stronzo C'è qualche reward che da diamanti? Eh, questo che ti da Niente 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 No Arse nouveau Aspetta, fratello conosce l'Arse nouveau per caso Una volta, mi sa Che se sta una magia per trasformare una roba in diamanti Bello Ti ricordi l'Arse nouveau? Sì Sì Qualche trick magico per creare diamanti No Non A posto E come no Tipo Is a rispello Ah? Non trovo Ok Is a rispello C'è Quando danno Stavano C***o Dove Però ma Minerali Non ci fanno Non c***o Non c***o Non c***o Non c***o Non c***o Non c***o Se abbiamo Abbastanza Ossidiana A me Sava manco Quello Ma Sfidiana Ci fa La norma Vero Eh ma Tipo Un decino Norma Vero Ma Non c***o Vieni Io Ho un c***o Di prendi La sc***o Ma Non c***o Ma Non c***o Ma Non c***o Ma S***o Ok Si è rotto Il piccone Diamante A posto Annaggia Allello Le sue c***ate Dai Ah però Cosa Ha trattato un po' D'estiliana Ah Pensavo di avanti Dove Lo faccio Portare Senti Di quasi Ora di là va bene Dove sta sto Bucavallo di m***a Soi Abonto Estilian I Dato Hit A In se cerco burn non esce come capisco non è male buttare su questi alberi qua effettivamente a bruciare e qua un bello stack anche di schialbi del cazzo diventerà diamanti andate qua strans sai dove fare più di questi qua senti come si fa il fiore dell'acqua botania ho messo il fiore dell'acqua e si chiamava tipo botashi qua vicolus ma devo dire che Zolander è stato un bel film ma che c'è si ci sta era? yes molto figo anche il 2 era male mi diceva che è un po' una cacata ma un pochetto ha perso però dai è stato bello anche dai è stato bello petale blu e petale ciano ok ora faccio un botto di fiori che bevono acqua per generare la magia vado vado non ne per ah comunque c'è un timer in basso a sinistra che dici quanto tempo puoi restare ok altrimenti che succede? muori cacca nei pantaloni no muori muori nei pantaloni no 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 muori 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 anche fuori i pantaloni ah merda manca l'acqua mi manca l'acqua mi manca l'acqua ti ricordo quando stava l'acqua? eccoli sembrano diamanti invece no forco di me so cacato mezzo basso di diamanti invece era apatite molto meglio la diarrea che le apatite e comunque non è male non si disprezza le apatite quindi delle apatite molto meglio la merda che la piscia questo che ti ha detto? è un santo è un nebola su glaze su chiaccio on the chiaccio allora abbiamo smiditore in bucket ecco qua un bucket ma tu hai diversi drink on the rock? eh? io non bevo nessuna pietra non lo devo fare una cosa qua don't play mobile don't play mobile vabbè faccio dopo oh no ah faccio adesso dai eh paolo paolo eh un attimo abbiamo un problema logistico eh che a me sarebbe un po' di spazio per fare l'acqua senti sono le undici sono le undici a un quarta un po' rossi è davvero un po' d'acqua eh si ci sta parca puttana ah ah Sì Allora, penso di essere un po' impazzito Perché sono andato in cucina Ho preso un bicchiera Ho versato l'acqua nel bicchiera Ho bevuto l'acqua dal bicchiera Ho portato il bicchiere al frigo E l'ho messo dentro al posto della bottiglia Ho messo un bicchiere e voluto in frigo E la bottiglia? L'ho lasciato sopra la bancone Poi mi sono resa conto di aver fatto una piccola cazzatura Ma mi ciuccia proprio l'acqua Mi ciuccia l'acqua Ah, no, è scomparsa Ecco che vi indico di fare così Allora, devo fare la Watashi infinita Torna sto seme Oh, merda Perché l'ho messo qua? Uffa Ma che sarà il nether quindi? È il normalissimo nether No, cazzo Ci sta Boom, boom, boom Boom, shakalaka Ehm Umberto Umberto Faccio di loro Paraparetto Umberto, Umberto, Umberto Oh, porco Dio Umberto, Umberto, Umberto No, Fra, non trovo diamanti Non esistono Ah, 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 ah Se invece c'è qualche bug Non è possibile Tipo quello che vuoi Ma non è normale Sta cosa E anche Carlito Carlito E Carlito Apriamo a fare così Papi, papi, pe Ok Quindi in modo da me No, doveva il mio dirt Facile a dirtelo Sì Laceva fuori La company Eh, sì Basta Ma non è diverso Oh, posso capire Per dire Se nella punta Che ha fatto i pacchetti Comunque Bene o male I materiali Te ne hai mai cercato O comunque Sulla Project Azure Abbiamo fatto roba Per avere materiali Però comunque All'inizio Li abbiamo guadagnati Qui Sto a scavare lo stesso blocco Da un sacco di tempo E mi sento Uno stronzo Non posso fare game Sono impotente Non so fare un cazzo Non mi capita Non posso fare una mazza Cioè, devo fare altro Però io volevo sistemare Un po' di storage qua Viste che abbiamo cesta Piene di merda Mannaggia È una lootbox Sì È mello gibbo Sto cazzo di diamante È una cazzo lootbox Cioè, io ho buttato Un piccone intero Per trovare un diamante Cioè, io un piccone Da 2000 utilizzi Ho trovato Un diamante Dai Mi ha detto niente Oddio, cane Eh, vabbè Fanculo Quando fa così 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 Mi ha detto Ora mi chiude qua Un botto d'acqua Ah, che vaffanculo Ok 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 Madonna mia Impossible Cazzo Fafafaa Ah non, se blocchi del cazzo Basta Andranno, c'è laою La sua Basta Pustiamo tutto Pagù ma se cerco meglio sta botta amica qua la porca puttana è più facile la k mod effettivamente la hai un senso di progressione qua boh abbiamo finito ogni cosa che avevamo più utile almeno ma guarda stai un po' cazzo porna time guarda che brucia all'infinito dai diamante no qual è la malachite vaffanculo cristo mi si è cagato sotto boh poi sembra che manco la dasta cazzo di che merda vabbè vado nel nether vai vedo che cazzo sta e non c'è un cazzo proprio niente manco mezzo materiale ah no quello si dai fanculo va fanculo l'ordine delle cose fai mangiare un attimo fai mangiare un attimo mamma mia cazzo trovo cavallo ho trovato la lava aiuto brucia 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 in che senso brucia c'è un cavallo non c'è arrivato non c'è arrivato 10 minuti chissà che succede dopo 10 minuti ci sono due tizi qua dentro chi? ma tu dove stai? mi sono fatto un tunnel per divertimento no 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 non molto il tunnel dell'attore di cazzo ho passato può diventare diamante no? ho un pazzo no 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 poi sembra un mether molto vanilloso l'uso altrimenti adegna qualche ora ma se c'è diamante bella che dà è un crimson iron dobbiamo fare l'app del diamante e come si fa l'app del diamante no 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 serve l'app del lapis e del del dell'end non ne ho troppo l'idea ma io c'è scritto ce ne vuole questa roba crimson iron però possiamo prendere la lava e che ti serve non so se con la lava può generare mana che il tutorial che vi so io gli diceva che non puoi metterci la lavassi così qua magari un update si può fare un blocco di lava tipo l'agglomerato aspera l'agglomerato di fuoco l'agglomerato di fuoco fa il seme del fuoco col seme del fuoco che possiamo fa niente merda del fuoco al seme porco dio andiamo un po' ripeto Vediamo un po' Dandelion Se la vi E se La La E E E è fra End of flame 3 farm in carcogliore Rosa arcana XP End of flame Dovremmo fare un bot di end of flame Porca puttana Ma perché questo fiore non funziona? Ever break up started A posta, ma potete uscire Basta, basta, ne posso più Ah perché c'è solo smeralda? Non esce proprio il diamante, secondo me si è bugato Non è possibile, non esce proprio E' ossidiano E sti blocchi li ho visti a buttare Di quel cazzo di amante Non c'è, non ne vedo Cerchiamo All in one E' già provato, trovo il cazzo E' già provato, trovo il cazzo di amante E' già provato, trovo il cazzo di amante E' già provato, trovo il cazzo di amante E' già vi E' già da a Dın Sì X Ja März D blanc Andstone Rosquartz Lei Però ti era uscito il coso, però Una volta Un diamante, si Che cazzata E' stato più bello mettere che puoi dire te Che cazzo era qua C'è mettere Only one, bah Beh, si è rotto il piccone Basta, c'è rotto il cazzo Stoppati qua Io mi fermo qui e basta Vai, potete tirare una stella merda Una merda pacifista E' una merda E' una merda Forca putt Dica lo vendi tu No E' questo vendita grosso L'ho già risolto E' una merda pacifista Però Mmm Se faccio così Ah Qualche metodo strano Ce l'ho in mente Però devi fare Almeno sarebbe fare un bot E end of flame Usare la lava Per creare Il church hall E fare una roba infinita Che c'era in bot Marrone, rosso e grey Rosso Rosso Marrone Light grey La merda pacifista Merda Un secchio Un secchio Dove sta un secchio Datemi un secchio Hai un secchio Ma porca dio Dove cazzo è finita Vabbè Ne ho fatto un'altra Al fangool Smeg ma piscio Smeg ma piscio Nello Scegliere la terra No Da cavolo manca la terra Oh ma non è possibile Perchè ci manca sempre la terra Smeg ma piscio Smeg ma piscio Ah badani Christo Inventario Ma dovevo malevitare il cazzo brutto Stronzo No 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 Andiamo No 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 metti qua dentro dai che c'è il diamante qua dai ma quanti nemmeno posso andare? no questo non lo prendi ma che porca puttana le scarpe sono illegali queste scarpe sono illegali fai mettere una casa dai della merda pacifista un po' di wood di planks piazzatinamente non è successo niente 5, 3, 2 casse pure addirittura ok questa era la cassa merda di trotti qua d'affanculo metti tutto no porco dio ma perchè sto villager fa parkour due villager eh ti devi metterlo a bruciare nel corsa a sto punto fa più roba qua sotto no no proprio nelle fornace che ti fa il quale cocchi e la carborella ci ho messo la lava chiuso la lava per farlo eh ma questo tipo di legno è diverso? eh non lo fa uguale è diverso devo stack aspetta lo sposto da qua ce lo metto qua sotto poi tolgo questo e tolgo questo e ce li buffo ah ho capito ho capito spot diverso non è che tipo nero madoma ma perché no è che poi ti ha fatto rompere proprio il fiore porco dio putti cazzo nooo oh io ce l'ho oh vai prendo dai ma vuoi vedere metto un altro un altro diamante no niente no porca miseria oh ma non è possibile nooo ma che cazzo ma che cazzo forca puttana un preso adorare un diamante ah e basta non lo voglio manco usare ora basta si aspetta mi spacca gli ultimi blocchi basta dai anzi mi sa che ora prendeva da ninna esattamente eh vabbè ormai ci sta però almeno ce l'abbiamo vediamo se ne esce un altro quello di ultimi blocchi che sono rimasti si serve molto bene se ne esce un altro mmm finita l'energia vabbè niente vabbè niente vabbè niente finita l'energia basta eh qualcosa a terra no a posto puoi stitare ce l'abbiamo fatta il diamante ma cristo negola ahhhh che bel pacchetto che ho trovato eh eh merda eh merda no ma sono in set la ma se che non me lo facciamo facciamo in tempo manca a fare una partita no è tardi il tempo che entriamo mettiamo le moda e impostiamo no c'è sta papuccino però abbiamo trovato il diamante il telefono di cappuccino dai andiamo avanti ce l'abbiamo metti che manca lo trovavamo no dimmi quello è il telefono di cappuccino cosa chiami a fare grazie grazie